Poi approcci SCP-173 per testa Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della storia dei circuiti Oggi andiamo a parlare del circuito chiamato circuito di Baturst Questa è la mappa del circuito Il circuito è anche conosciuto comunemente con il nome di Mount Panorama E' anche presente nel gioco di Real Racing 3 Il circuito di Baturst è un circuito motoristico australiano di Baturst E' famoso verso i saliscendi proprio perché il circuito si trova su una collina E' presso i nuretti molto pericolosi Storia Il circuito è stato inaugurato nel 1938 Il giorno di Pasqua con la prima gara mobilistica e motociclistica Qui trovarono la morte molti piloti l'ultimo nel 2006 L'incidente di Mike Burgmann comportò l'unica modifica al circuito Fatta nel 1987 con l'aggiunta di una chicane chiamata The Case Nel lunghissimo rettilineo Corn Road Straight Prima della curva che porta al traguardo La Murray Corner Qui corrono principalmente le supercars Nel 1992 l'ex campione del mondo di Formula 1, Dennis Halm, ritrovò la morte a causa di un infarto Occorso di durante la 1000 km di quell'anno Piloti Sotto viene l'elenco dei piloti morti durante una gara sul circuito di Baturst Da ricordare due spettatori morti nel 1955 colpiti da una macchina 17 aprile 1949 Jack Johnson M.G.T.C. Ester Races 5 aprile 1958 Barry Halliday Moto sconosciuta Battlest Tourist Trophy 2 ottobre 1960 2 ottobre 1960 Reg Smith Porsche Australian GT Championship 7 aprile 1969 Bevan Gibson Helfin 400 Repco Mont Panorama Trophy 30 marzo 1970 Tom Sal Sulman o Salman Lotus Eleven Climax Sir Joseph Banks Trophy 2 aprile 1972 Landhog Sedecar Batast T-Race 17 aprile 1976 Ross Barelli Suzuki RG500 Ester Races 15 aprile 1979 Ron Thompson Yamaha TX350F Ester Races Pasqua 1980 Rob Morehouse Ester Motosagra Races Pasqua 1980 Alec Dick Ester Motorcycles Races 5 aprile 1986 Mike Borgman Holden Commodore VKSS Gruppo A James Hardy 1000 4 aprile 1992 Danny Halm BMW M3 Evolution Tuehees 1000 Aprile 1994 Jim Colligan Sedecar Australian Tourist Trophy Aprile 1994 Aprile 1994 Jim Thornton Thornton Sedecar Australian Tourist Trophy 30 settembre 1994 Don Watson Holden Commodore VP Twiz 1000 8Trope 2006 Mark Potter Holden Commodore VZ Fujitsu V8 Supercast Series Anche se non c'è scritto Ma è presente nel suo circuito Anche nel gioco di Real Racing 3 Che l'ho detto comunque prima Va bene Se il video ti è piaciuto Come sempre Vi invito a lasciare un bel mi piace Per questo video è tutto E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao